L'UCIS, unità in pratica da soccorso cinofile, unità cinofile da soccorso, ci ha contattato verso l'inizio dell'anno per una fase di un'esercitazione a livello nazionale finanziata dal Dipartimento della Protezione Civile che si chiama Terremotus, perché faremo delle ricerche su degli stabili in pratica in disuso, anche qui vicino a Col di Cave abbiamo ottenuto anche il permesso in pratica dalla caserma per entrare nella caserma Paolini, saranno presenti otto squadre formate da cinque volontari e tre cani, tra cui due della Regione Marche e sei dell'UCIS, parteciperà alla Croce Rossa come Regione Marche, appunto per una ricerca differenziata sia sulla parte superficie case di roccate bosco oppure in una cava piuttosto che in una fornace di cose dismesse dove si avvicina molto lo scenario a un terremoto e qui avremo appunto dei figuranti, dei valutatori, in pratica una logistica, si mette in piedi tutto come si fa esattamente come un campo. Vedrete delle tende piuttosto da campeggio perché sono autosufficienti perché devono arrivare subito sul luogo, arriveranno, si registreranno e gli verrà dato a loro lo scenario dove andare, ogni squadra passerà tutti e quattro gli scenari, l'UCIS vuole toccare con mano quali sono le persone, i cani, i conduttori che possono veramente andare sullo scenario del terremoto perché la cinofilia è a 360 gradi, anche se sono autosufficienti ma noi abbiamo comunque scelto di offrirgli il pranzo finale che è di domenica a conclusione della giornata, un debriefing e appunto invitare tutti a pranzo e oltre c'è la logistica, la gestione delle comunicazioni radio perché tutti i siti anche se distano di qui una trentina di chilometri devono essere coperti via radio, quindi tutti i settori della protezione civile, anche se prevalente è la parte cinofila questa volta ma sono messi tutti e ognuno per il proprio posto, il proprio compito.